Fattica Fatica ma tu proprio e adesso devi andare nelle gabinette? Eh, mi dispiace, ma su, vabbiamo Preside, questi ragazzi, ma son senza speranza Madonna, come sei disfattista, possono diventare politici Ho invitato una classe di acra Capitale del ? A partecipare insieme alla festa dei giovani della Valdorcia Cerca l'indirizzo, posso stare tranquillo? Ah, che... Forse cercavi a Cerra? Sì. Sì! Ciao, vacca! Ciao, Ghana! Voi del nord la dovete finire con questa spocchia che tenete. Un padre missionario! E per giunta italiano, splendido! A proposito, padre, come Dio? Che sapete voi? Un Gesù. Ottimo, bene, bene, come noi. Ci divertiremo un sacco. I toscani sono gente ospitale. Benvenuta a Africa. Questo non è stato un piano per il culo. Fai ora, ma poi! No, non so! No, scusi, scusi, chi risarcisce i familiari delle vittime? Piace molto il tuo modo di rapportarti ai ragazzini in fondo di sicurezza. Ma sono solo dei bambini! Idealista! Avanti un altro, andiamo su che l'empenta, vai. E' iniziato lo scambio! Grande Dante Alighieri ha scritto la divina commedia. Chi ha costruito il cavallo di Troia? Mamma, dove lo so? No! Secondo me la cosa più importante rimane la voglia che un insegnante ci mette. Anche la voglia di imparare dai propri alunni. In fila per tre, no random! Faticati, sai cosa vuol dire random? A cazzo di cane! A cazzo di cane, bene!